Hanno deciso che da oggi trascorreranno almeno sei mesi l'anno a Sambuca di Sicilia i coniugi statunitensi Massoud Akmadi e Shelly Spencer, avvocati d'affari di Washington. Originario dell'Iran, lui, americana Doc Lay, due anni fa avevano acquistato uno dei 17 mobili che il comune aveva messo in vendita con la ormai celebre operazione delle case a un euro, quella che in breve tempo ha trasformato il borgo dei borghi della provincia di Grigento in meta privilegiata del turismo internazionale e dell'interesse diffuso da parte di VIP provenienti da tutto il mondo, tra di loro anche l'attrice Lorraine Bracco che ne ha anche approfittato per realizzare un reality show targato Real Time che ha permesso a Sambuca di oltrepassare tutti i confini geografici immaginabili. La casa a suo tempo acquistata per un euro dai coniugi Akmadi situata in via Cicerone adesso è stata completamente ristrutturata, obiettivo peraltro raggiunto da nuovi proprietari in due anni in netto anticipo sulla tabella di marcia triennale stabilita nell'accordo col comune, comune che naturalmente adesso dovrà restituire 5.000 euro versati dagli Akmadi come cauzione, un appartamento che dunque è stato già eletto a buon retiro di questi ospiti speciali, i quali per la necessaria ristrutturazione hanno commissionato forniture e lavori edili artigianali a imprese locali, investendo così circa 200.000 euro. La stessa cosa hanno fatto gli altri 16 acquirenti delle case a un euro, con una significativa concentrazione di maestranze locali e investimenti economici sul territorio sambucese per una somma già stimata in almeno una ventina di milioni di euro. Ma come se non bastasse, Massoud e Shelly nel frattempo hanno deciso di acquistare anche un altro appartamento, stavolta da un privato, recentemente è stato sottoscritto in rogito nello studio di un notaio. La gente di qui è meravigliosa, ma lo sono anche il clima e il territorio, ha detto entusiasta Shelly, appassionato di enogastronomia, il marito ha evidenziato il proprio apprezzamento per i prodotti tipici e per gli ottimi vini prodotti da queste parti. Il sindaco di Sambuca, Leo Ciaccio e il suo vice Giuseppe Cacioppo hanno reso una visita di cortesia ai coniugi di Washington nella loro casa appena ristrutturata, abbiamo investito convintamente nel progetto delle case di un euro, ha detto il primo cittadino, e adesso ci prendiamo le conseguenti soddisfazioni. Obiettivo dell'iniziativa delle case di un euro, riqualificare il centro abitato, ma soprattutto promuovere il territorio. Operazione che è evidentemente accolto nel segno, al punto tale che il comune di Sambuca ha recentemente lanciato un secondo lotto di 16 immobili che stavolta saranno proposte a 2 euro ciascuno. La prossima settimana saranno aperte le buste contenenti le offerte che, c'è da scommetterci, proverranno da tutto il mondo.